ragazzi buon pranzo senza scampo oggi vi faccio vedere che mangio sempre bruschettine con duiam, broccoletti, polenta, polenta fritta e i polipetti, ho messo i polipetti sopra questo non so che questo era? la formaggio no? non mi ricordo allora ragazzi si parte ma è sabonio bisogna partire sempre bene comunque come prima ho preso con le velace e bottarga e mio fratello ha preso la pasta al sugo con le cannocchie, con le cannocchie, vamos di polenta fritta e i polipetti, buona avete mangiato voi la polenta fritta con i polipetti sopra al sugo? se avete confronto è una bontà prima portata le linguine al sugo con le cannocchie, guardate che bellezza ragazzi, bello eh, questo è un bel piatto, poi le cannocchie sono poche, ce l'ha messo in abbondanza, così deve essere presentato e poi abbiamo la pasta con le vongole e bottarga, guardate che spettacolo mamma mia che fame che c'ho, un piattone un bel piattone questo qua allora sta già a metà a metà a metà io mi fratello a bottarga comunque la morte so se le vongole ragazzi a bottarga se è buonissimo andate quanto è buono il pesce, vedi quello che non gli piace il pesce no? ma come fanno? c'è, il pesce è delicioso, facciamo pure colazione ora sto pure assaggiare quello con le cannocchie del mio fratello sto pure assaggiare come ho mangiato questo quello di cannocchie? questo è buono, piccante piccante è buono se vediamo dopo l'assaggio di quel lato ragazzi, tanto comunque le voto 9 e mezzo assaggiamo il sughetto qua, la pasta che voto che dai tu? ma questo vedi, le linguine? 9 9 assomiglia all'astico il sughetto vero? assomiglia 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 all'astico poi è buono, è bello piccante già fatto, io non so proprio per il piccante per esempio per me il piccante dopo un po' mi disturba il gusto è buonissimo buone queste mi piacciono, però mi piacciono più che buon quella a me però queste pure sono molto buone buonissimo buonissimo, belle piccante, sono piccantissime torniamo a casa ragazzi, ottima mangiata come sempre e niente, commentate, seguitemi su instagram, davide food italy e qua su questa pop è stata 2000 e niente ragazzi, commentate, commentate e commentate buonissimo 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 buonissimo